ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco zerfun welcome farma spa ultimo aggiornamento 8 agosto 2022 cos'è zerfun confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali altre forme di interazione assumere zerfun durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è zerfun zerfun è un farmaco a base del principio attivo fluconazzolo appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati triazolici e tetrazzolici è commercializzato in italia dall'azienda welcome farma spa zerfun può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni zerfun 150 mg due capsule rigide informazioni commerciali sulla prescrizione titolare i di farmaceutici srl concessionario welcome farma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo fluconazzolo gruppo terapeutico antimicotici forma farmaceutica capsula indicazioni zerfun è indicato nelle seguenti infezioni micotiche vedere paragrafo 5 1 zerfun ha indicato negli adulti per il trattamento di meningite criptococcica vedere paragrafo 4 4 coccidioidomicosi vedere paragrafo 4 4 candidiasi invasiva candidiasi delle mucose incluse candidiasi orofaringea candidiasi esofagea candiduria e candidiasi mucocutanea cronica candidiasi orale atrofica cronica stumatite da protesi dentale nel caso in cui il gene dentale trattamento topico siano insufficienti candidiasi vaginale acuta o ricorrente quando la terapia locale non è appropriata balanite da candida quando la terapia locale non è appropriata dermatomicosi incluse tinea pedis tinea corporis tinea cruris tinea versicolure infezioni cutanee da candida quando sia indicata la terapia sistemica tinea unguinium onicomicosi quando altri trattamenti non siano considerati appropriati zerfun ha indicato negli adulti per la profilassi di recidiva di meningite criptococica in pazienti ad alto rischio di ricaduta recidiva di candidiasi orofaringea o esofagea in pazienti affetti da iva ad alto rischio di presentare ricadute per ridurre l'incidenza della candidiasi vaginale ricorrente quattro o più episodi all'anno profilassi delle candidamie nei pazienti con neutropenia prolungata esempio pazienti con patologie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia o pazienti che ricevono trapianto di cellule staminali ematologiche vedere paragrafo 51 zerfun ha indicato nei neonati a termine lattanti infanti bambini e adolescenti da 0 a 17 anni zerfun è usato nel trattamento delle candidiasi delle mucose orofaringe esofagee candidiasi invasive meningite criptococica e nella profilassi delle candidiasi nei pazienti immunocompromessi zerfun può essere usato come terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococica nei bambini ad alto rischio di recidiva vedere paragrafo 44 la terapia può essere istituita prima che si conoscano i risultati delle colture o di altri test di laboratorio ma quando i risultati diventano disponibili la terapia anti infettiva deve essere adeguata conseguentemente bisogna tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato degli antimicotici posologia posologia e il dosaggio deve essere basato sulla natura e sulla gravità dell'infezione micotica il trattamento delle infezioni che richiedono dosaggi multipli deve proseguire finché i parametri clinici o altri esami di laboratorio non dimostrino che l'infezione micotica attiva sia scomparsa un periodo di trattamento inadeguato potrebbe portare alla recidiva dell'infezione attiva adulti indicazioni posologia durata del trattamento criptococcosi trattamento della meningite criptococcica dose di carico 400 mg il giorno 1 dose successiva da 200 mg a 400 mg barra una volta al giorno generalmente da 6 a 8 settimane nelle infezioni che costituiscono rischio per la vita la dose può essere aumentata fino a 800 mg terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei pazienti ad alto rischio di recidiva 200 mg barra una volta al giorno indefinitamente alla dose giornaliera di 200 mg coccidioidomicosi da 200 mg a 400 mg barra una volta al giorno 11 mesi fino a 24 mesi o più in base ai pazienti 800 mg barra di e possono essere considerati per alcune infezioni e specialmente per le meningite candidiasi invasive dose di carico 800 mg il giorno 1 dose successiva 400 mg barra una volta al giorno in genere la durata della terapia raccomandata per la candidemia è di due settimane dopo i risultati della prima emocoltura negativa e la risoluzione dei segni e sintomi attribuibili alla candidemia trattamento della candidiasi delle mucose candidiasi orofaringe a dose di carico da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva da 100 mg a 200 mg barra una volta al giorno da 14 a 30 giorni fino a quando la candidiasi esofagea non è in remissione una volta al giorno da 7 a 21 giorni fino a quando la candidiasi orofaringe non è in remissione nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candidiasi esofagea dose di carico da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva da 100 mg a 200 mg barra una volta al giorno da 14 a 30 giorni fino a quando la candidiasi esofagea non è in remissione nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candiduria da 200 mg a 400 mg barra una volta al giorno da 7 a 21 giorni nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candidiasi atrofica cronica 50 mg barra una volta al giorno a 14 giorni candidiasi mucocutanea cronica da 50 mg a 100 mg barra una volta al giorno fino a 28 giorni periodi più lunghi in base sia alla gravità dell'infezione sia all'immunocompromissione o all'infezione di base prevenzione delle recidive delle candidiasi delle mucose nei pazienti affetti dai che sono ad elevato rischio di recidiva candidiasi oro faringea da 100 mg a 200 mg barra una volta al giorno o 200 mg 3 volte a settimana periodo indefinito per i pazienti con immunosopressione cronica candidiasi esofagea da 100 mg a 200 mg barra una volta al giorno o 200 mg 3 volte a settimana periodo indefinito per i pazienti con immunosopressione cronica candidiasi genitale candidasi vaginale acuta balanite da candida 150 mg dose singola trattamento e profilassi delle ricadute della candidiasi vaginale 4 più episodi all'anno 150 mg ogni terzo giorno per un totale di tre dosi giorno 1 4 e 7 seguiti da una dose di mantenimento di 150 mg una volta a settimana dose di mantenimento sei mesi dermatomicosi tinea pedis tinea corporis tinea cruris infezioni da candida 150 mg una volta a settimana 50 mg una volta al giorno da due a quattro settimane la tinea pedis può richiedere un trattamento fino a sei settimane tinea versicolor da 300 mg a 400 mg una volta a settimana da 1 a 3 settimane 50 mg una volta al giorno da due a quattro settimane tinea un guim onicomicosi 150 mg una volta a settimana il trattamento deve essere continuato finché l'unghia infetta non è sostituita l'unghia sana ricresce la ricrescita delle unghie delle dita delle mani e dei piedi richiede normalmente da 3 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi rispettivamente comunque la velocità della crescita può variare molto in base ai soggetti e all'età dopo trattamento efficace di infezioni croniche di lungo termine le unghie potrebbero restare alterate profilassi delle infezioni da candida in pazienti con neutropenia prolungata da 200 mg a 400 mg barra una volta al giorno il trattamento deve iniziare diversi giorni prima della prevista comparsa di neutropenia e continuare per sette giorni dopo la ripresa dalla neutropenia dopo che la conta dei neutrofili sarà salita oltre 1000 cellule per m3 popolazioni speciali anziani il dosaggio deve essere adeguato in base alla funzionalità renale vedere compromissione renale compromissione renale zerfun viene eliminato immodificato principalmente attraverso le urine non sono necessari adattamenti quando si effettua una terapia in unica dose quando invece si effettua una terapia con dosi ripetute di fluconazzolo nei pazienti con insufficienza renale inclusa la popolazione pediatrica dovrà essere somministrata una dose iniziale compresa tra 50 mg e 400 mg sulla base della dose giornaliera raccomandata per l'indicazione dopo questa dose iniziale di carico il dosaggio giornaliero a seconda dell'indicazione dovrà essere modificato in base allo schema seguente clarance della creatinina ml barra min dose raccomandata percentuale 50 100% di 50 nessuna emodialisi 50% emodialisi 100% dopo ogni seduta di emodialisi i pazienti sottoposti a emodialisi devono ricevere il 100% della dose raccomandata dopo ogni seduta di emodialisi nei giorni senza emodialisi i pazienti devono ricevere una dose ridotta in base alla clarance della creatinina compromissione epatica sono disponibili dati limitati nei pazienti con compromissione epatica quindi fluconazzolo deve essere somministrato con cautela nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica vedere paragrafi 4 4 e 4 8 popolazione pediatrica nella popolazione pediatrica non bisogna superare la dose massima di 400 mg barra vie come per le analoge infezioni negli adulti la durata del trattamento si basa sulla risposta clinica e micologica zerfum viene somministrato in dose singola giornaliera per i pazienti pediatrici con funzionalità renale compromessa vedere il dosaggio al paragrafo compromissione renale la farmacocinetica del fluconazzolo non è stata studiata nella popolazione pediatrica con insufficienza renale per i neonati a termine che spesso mostrano principalmente immaturità renale vedere di seguito lattanti infanti e bambini da 28 giorni a 11 anni indicazione posologia raccomandazioni candidiasi delle mucose dose iniziale 6 mg barra chilogrammi dose successiva 3 mg barra chilogrammi barra una volta al giorno la dose iniziale può essere usata il primo giorno per raggiungere più rapidamente i livelli di stea di state candidiasi invasive meningite criptococica dose da 6 a 12 mg barra chilogrammi barra una volta al giorno in base alla gravità della malattia terapia di mantenimento per la prevenzione di ricadute di meningite criptococica nei bambini ad alto rischio di recidiva dose 6 mg barra chilogrammi barra una volta al giorno in base alla gravità della malattia profilassi della candida nei pazienti immunocompromessi dose da 3 a 12 mg barra chilogrammi barra una volta al giorno in base all'entità e alla durata della neutropenia indotta vedere posologia negli adulti adolescenti da 12 a 17 anni in base al peso e allo sviluppo puberale il medico avrà bisogno di valutare quale posologia sia la più adeguata adulti o bambini i dati clinici indicano che i bambini hanno una clarance del fluconazolo più elevata di quella riscontrata negli adulti una dose di 100 200 e 400 mg negli adulti corrisponde a una dose di 3 6 e 12 mg barra nei bambini per ottenere un'esposizione sistemica comparabile la sicurezza e l'efficacia per l'indicazione candidiasi genitale nella popolazione pediatrica non sono state stabilite i dati di sicurezza attualmente disponibili per le altre indicazioni pediatriche sono descritti al paragrafo 4 8 nei casi in cui sia assolutamente necessario il trattamento della candidiasi genitale negli adolescenti da 12 a 17 anni la posologia deve essere la stessa degli adulti neonati a termine da 0 a 27 giorni l'escrizione di fluconazolo nei neonati avviene lentamente ci sono pochi dati farmacocinetici a sostegno di questa posologia nei neonati a termine vedere paragrafo 52 età posologia raccomandazioni neonati a termine da 0 a 14 giorni la stessa dose mg barra chilogrammi prevista per lattanti infanti e bambini deve essere somministrata ogni 72 ore non deve essere superata la dose massima di 12 mg barra chilogrammi ogni 72 ore neonati a termine da 15 a 27 giorni la stessa dose mg barra chilogrammi prevista per lattanti infanti e bambini deve essere somministrata ogni 48 ore non deve essere superata la dose massima di 12 mg barra chilogrammi ogni 48 ore modo di somministrazione fluconazolo può essere somministrato sia per via orale sia tramite infusione endovinosa in base allo stato clinico del paziente nel passaggio dalla via endovinosa a quella orale o viceversa non è necessario modificare il dosaggio giornaliero il medico deve prescrivere la forma farmaceutica e il dosaggio più appropriati in base all'età al peso e alla posologia la formulazione della capsula non è adatta per l'uso in neonati e bambini piccoli sono disponibili formulazioni liquide orali di fluconazolo che sono più adatte a questa popolazione le capsule devono essere deglutite intere e indipendentemente dall'assunzione di alimenti controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ai composti azoici correlati o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 la somministrazione concomitante di terfenadina è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con zerfuna dosi multiple e 400 mg barra die sulla base dei risultati di uno studio di interazione con dosi multiple la somministrazione concomitante di altri farmaci che prolungano l'intervallo qt e che sono metabolizzati tramite il citocromo p450 chip 3 a 4 come cisapride astimizolo pimozide chinidina eritromicina è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con fluconazolo vedere paragrafi 4 4 e 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego tineacapitis il fluconazolo è stato studiato per il trattamento della tineacapitis nei bambini è stato dimostrato che non è superiore alla grise o fulvina e che il tasso generale di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione l'uso concomitante dei seguenti medicinali è controindicato cisapride sono stati riportati casi di eventi cardiaci tra cui torsioni di punta in pazienti sottoposti e somministrazione concomitante di fluconazolo e cisapride 1 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere zerfun durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere zerfun durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza i dati relativi a diverse migliaia di donne in gravidanza trattate con una dose cumulativa di 150 mg di fluconazolo somministrato nel primo trimestre non mostrano alcun aumento del rischio vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sugli effetti di fluconazolo sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari i pazienti devono essere avvisati che possono occasionalmente verificarsi capogiri o convulsioni vedere paragrafo 4 8 durante la terapia con fluconazolo e che non devono guidare o azionare macchinari nel caso in cui si manifesti uno di questi sintomi effetti indesiderati le reazioni avverse più frequentemente segnalate e un centesimo un decimo sono cefalea dolore addominale diarrea nausea vomito aumento della lanina aminotransferasi aumento dell'aspartato aminotransferasi aumento della fosfatasi alcalina ematica e rush è stata vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio sono stati riportati casi di sovradosaggio con fluconazolo contemporaneamente sono state segnalate allucinazioni e comportamento paranoico in caso di accidentale sovradosaggio si può rendere necessario un trattamento sintomatico con un'adeguata terapia di supporto ed eventualmente lavanda gastrica il fluconazolo viene excreto in massima parte attraverso le urine una diuresi forzata aumenta probabilmente la percentuale di eliminazione una seduta di emodialisi di tre ore diminuisce i livelli plasmatici di circa il 50 per cento proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antimicotici per uso sistemico derivati triazolici codice atc ilunga 02 ac 01 meccanismo d'azione il fluconazolo è un antimicotico triazolico il suo meccanismo d'azione principale è l'inibizione della demetilazione del 14 proprietà farmacocinetiche le proprietà farmacocinetiche del fluconazolo sono simili sia con la somministrazione per via endovinosa che per via orale assorbimento somministrato per via orale il fluconazolo è ben assorbito con livelli dati preclinici di sicurezza negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo il che indica una scarsa rilevanza clinica carcinogenesi il fluconazolo non ha evidenziato elenco degli accipienti lattosio monoidrato amido pregelatinizzato magnesio stiarato silice colloidale anidra sodio lauril solfato capsula gelatina titanio di ossido e 171 ossido di ferro giallo e 172 solo nelle capsule da 100 mg farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di zerf una base di fluconazolo sono allo zof a zonal crinozol di flucan capsula di zolo il azzor fluconazolo abc fluconazolo accord fluconazolo adnus fluconazolo aurubindo fluconazolo doc generici fluconazolo eg fluconazolo exal fluconazolo milan fluconazolo pensa fluconazolo ratiofarm fluconazolo sandoz fluconazolo san fluconazolo zentiva flucostinol flucimex flumicon flumos fluores fungus gemiflux clider le funsol lucandiol miconix mucces riflax tedim trimicos vinc zoloder fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie a tutti